musica 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 che presto mamma apri con calma ma cosa schiacci se hai giocato vai vai attardi attenza vai attenzio facciamo tardi a mio piede ma sono stiamo vicino tardi ma couldnłe silenzio abbia la macchina non mi ricordo non mirodo più dove si fuerte da dove si si accende così ragazze ok no ma però con calma guarda che qua ci sono un sacco di alberi ecco non mi distraite statevi zitte questa rotella dove si gira per andare avanti sulla n no sulla d mamma in che senso sulla d mamma oh mamma mia sta muovendo mamma piano ragazze mamma piano oh mamma mia mamma ma ti muovi che non è la macchina oh ma quante macchine quante macchine aiuta ah ma scusa ma non c'è letteralmente le macchine ci stanno venendo addosso aiuta ci sono addosso ma pensiamo ancora nel parcheggio che cosa ci mettono addosso ci mettono addosso queste macchine ma mamma ma se ci sono nemmeno le macchine ci mettono addosso non c'è nessuno io non ci vedo bene con gli occhiali non c'è nessuno a dire io toppo guarda andiamo dietro andiamo dietro andiamo dietro stai zitta stai zitta andiamo dietro zitta zitta ti devi stare zitta no 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 aiutatemi aiutatemi chi è che c'è la tosse io c'è la tosse oh mamma mia ma divene la febbere mamma mia guarda guarda qua guarda qua dove parcheggio qua dove parcheggio non c'è posto non c'è posto non c'è posto guarda qui guarda qui dove parcheggio sto facendo il giro tondo sto facendo il giro tondo mamma mamma mi giro la testa scendi scendi mamma mi giro la testa c'è lo spazio c'è lo spazio qui dove parcheggio non vuoi chiedi 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 dico io no allora dobbiamo andare indietro eh si andiamo indietro io non ci vedo bene eh aiutatemi guardate indietro guardate indietro vedete se vedete se 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 sto andando indietro vai 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 perché non si muove no ma in che senso ragazzi no ma perché mi metto l'elettromarcio mamma aspetta mamma vieni ecco qua ecco qua guarda 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 indietro guarda indietro guarda indietro andiamo a finire nel palo mamma piano ma stiamo andando sotto non c'è ma so più io che te guardatemi un po guarda oh mamma mamma non ci vedo non ci vedo non ci vedo tanto bene ragazza aiutatemi mamma c'è un palo attenzione aiutatemi mamma c'è un palo mamma c'è un palo mamma c'è un palo mamma c'è non ci vedo non ci vedo con questi capelli non so chi mi sente lo sai allora ragazze io adesso devo parcheggiare eh mi raccomando aiutatemi ma se stiamo appena partite eh no devo un altro parcheggiare perché devo respirare mi sta venendo l'ansia ho paura guardate quante macchine mi vengono addosso quelle macchine ce l'ho appena partite il parcheggio mi sento male non ci sento male facciamo un incidente facciamo un incidente ma magari scendi scendi ci sono troppe macchine io non riesco a parcheggiare in questo spazio piccolo scendi e fammi indicami la strada ma sai perché c'è più grande la nostra casa ma cosa stai facendo mamma allora scendi ma che scendi mettiti bene mamma allora dai non ti prego mamma allora mamma allora a few moments later che devo fare che cosa devo fare non c'è nessuno c'è qualcuno c'è nemmeno una macchina dove marcheggio che qua lo spazio è stretto è stretto è stretto è stretto gira che stai andando contro la ringhiera fammi vedere fammi vedere è successo ma sei impazzita lo sai che adesso papà si arrabbia è molto vera mamma 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 deve andare mamma mamma devi andare di la tu tu devi andare Gigi devi andare di qua cosa ho combinato mamma 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 di la ho paura mamma mamma stiamo tu ci devi accompagnare a danza ok perché abbiamo la lezione a che ora è la lezione e alle 5 e mezza alle 5 e 20 e alle 5 e 40 ti muovi ma sali 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 ma senti mettiti mamma mamma salii�ansi mamma mamma ma vogliamo ragazze dai partiamo mamma apri fa freddo mamma vai 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 vaiORY Ragazze, siete cariche? Dai che facciamo un bel video, metto una bella musica e registriamo un bel video così poi lo postiamo su Instagram, ma non possiamo partire e poi non te l'hanno Via con la musica! Ma come non si può mancare questa canzone? Ma io ci vuole? Wow, wow, wow C'è qualcosa di speciale questa musica che fa diventare una giornata magica Come polvere di stelle lei mi fa volare Cavarchiamo sui colori di un arcobaleno Sai che il nostro sogno si realizzerà davvero Grazie alla felicità coloreremo il cielo Wow, wow Basta, dobbiamo andare a danza E siamo gli unici Ok, 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 ok Basta, basta, basta Andiamo? A che ora era l'appuntamento per la danza? 5 e mezza, dove sono? Sono le 5 e 35 dai sbrighiamoci Presto! Uh! Fate, facciamoci però Prima di partire Ho il telefono in mano e non si può sentarci tutto Prima di partire ci vuole un bel sorriso Ma, ma, ma Via, via Sorrisi! Dai, sorridete Ludo! Ma, giusto Ma, giusto Ma, giusto Ma, giusto Per sapere quante persone c'erano su Instagram? Non lo so, però sono poche Dai, dai, che ne dobbiamo fare di più Fate un bel sorrisone Ciiiiiii Ok, dai, andiamo Allora, un attimo, un attimo, una storia e poi ce ne andiamo Allora, ragazzi, amici di Instagram e di Youtube e di TikTok Adesso noi pubblicheremo un video Un video dove Aurora esibirà la sua coreografia di danza Mi raccomando, non perdetelo assolutamente Perché è un evento importantissimo, ok? Ci vediamo tra poco Il tempo di arrivare, eh? E mi raccomando Non arrendetevi Mai Andiamo Allora Mettiamo La marcia E andiamo Oh, mamma mia Oh, mamma mia che bel tramonto Eh no Eh no Eh no Eh no Eh no Eh no Qui bisogna scendere Bisogna scendere Andiamo Scendiamo Scendiamo Oh, mamma mia che vuole fare un bel selfie Un bel selfie Un bel selfie Un bel selfie Un attimo Un attimo Ma mamma mia che devo andare a mia coreografia Scendete Scendete, ci vuole un selfie qui Presto, presto Andiamo, andiamo, andiamo Su, su, su Un selfie a vol, dai Ah Scendete, su un selfie Sì, non veni qua presto Ma dai che c'è il tramonto, dov'è il tramonto? Non lo vedo più Vabbè dai Di là, di là, di là sta il tramonto Di là, di là, capitate là Giratevi Dopo non hai detto che devo fare delle telegrafie Giratevi Che bella ha detto? Oh la macchina Oh un ladro Si stanno facendo la macchina Si stanno facendo la macchina Oh un ladro, un ladro Un ladro Un ladro Il ladro Il ladro Non, 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 vieni qua, vieni qua È la nostra macchina È la nostra macchina È la nostra È la nostra macchina Vieni qua La macchina Salite Subito Calma Sali 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 in macchina Entra, entra pure tu Entra Mettete le cinture immediatamente Va bene Vi do un minuto Di tempo Silenzio assoluto Noi siamo gli unicorni Grande esercito del cuore No, 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 ti devi andare Silenzio Vi lascio a piedi Vi lascio a piedi Non ci vedo Un bel tubo Silenzio Andiamo Sali in scott Vuoh oh 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 c'è qualcosa silenzio silenzio lademi il telefono lademi il telefono come il polvere di stelle le mi fa volare voglio sentire volare una mosca in questa macchina bisogna stare in silenzio mettete la citura subito non c'è bisogno di urlare silenzio non voglio sentire volare una mosca silenzio non voglio sentire fiatare io devo capire silenzio ludovica cosa quella faccia non ti vedo molto convinta io ho sinceramente un po' di paura eh sì ma io ho letteralmente un po' di paura Leo cos'ha? oh amore non piangere lo so che questa mamma è vera non ci va a fare niente ma non piangere macciolotto ludovica silenzio buongiorno non voglio sentire volare una mosca ma ci vedi scusa vabbè ludovica che facciamo? e vabbè guarda qua guarda qua Leo Leo è totalmente triste per colpa tua Ludo anche se ci mettiamo a cantare un'altra volta vai metti la canzone il nostro sogno si realizzerà davvero grazie alla felicità coloreremo adesso mi sono speciata wow oh oh noi siamo gli unicorni grande esercito del cuore se stiamo insieme tutto poi diventerò speciale noi siamo gli unicorni da vieni a cantare con noi mamma 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 oh mamma mia scendete oh no mamma mia scendete aspetta scendete immediatamente siamo arrivati finalmente scendete eh sì scendiamo mamma sta pure piovendo mamma hai un ombrello no non ho ombrelli scendete pure tu signorina mamma scendi chiudete chiudete la porta punto di partenza scusa chiudete la porta che dobbiamo fare? bene vedete mamma che senso? mamma 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 che senso? mamma 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 mi capi? 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 Amma, mamma, mamma. Amma, mamma. Mamma, abbiamo andato aatorsua. Mamma. Mamma. Mamma, non la figgio. Mamma, stai ferma. Mamma! Mamma, non la figgio. Mamma, non la figgio. Ma non la figgio. Ci ho lasciato qui. Solo perché facevamo casino. E piove pure. Ma andiamo? Dove andiamo adesso? Dove hai due alberi? E gli alberi non cobrano molto. auri sta piovendo qua ora sappiamo la strada di casa e ci diamo se ci se qualcuno c'è un passaggio ma noi sappiamo la strada macchina nera macchina gialla che macchina è questa ma noi sappiamo dov'è la nostra casa tutto il punto è come facciamo a fare la strada eh sono lasciati in mezzo io mi metto il cappello io mi metto il cappello e io non ce l'ho il cappello che facciamo io e te va bene io devo trovarmi quello si si quello allora adesso come facciamo a ritornare a casa se ci abbiamo anche il telefono abbiamo il telefono vediamo qua non va nemmeno youtube non va a whatsapp non va a nulla ma soltanto spotify e il resto non va dobbiamo chiamare il papà ma vediamo il papà ma vediamo il papà chiamiamo il papà forse lei ci viene a prendere non va dobbiamo chiamare il papà non va dobbiamo chiamare il papà non va dobbiamo chiamare il papà